Ma che cosa te l'ha visto? Cosa dice, credo il GTA è sbloccato, è 2 milioni Ah, ma è pure abbastanza giornata, ci vedo benissimo Ci vedo benissimo, fratello Se ne è presa un'altra Quante sono? No Mi ha tappato pure a me Non era uno scav normale Non era uno scavato